Un momento divertente, educativo e aggregativo, ma soprattutto un modo per trascorrere insieme una giornata all'insegna della passione per i motori. Ancora una volta si è rivelata riuscitissima la gara di auto 4x4, non vedenti, arrivata all'undicesima edizione, che ha avuto come location la zona di Randello. Una gara scivolata via senza problemi, con la disponibilità delle aree della pineta di Randello, dove è stato ricavato un circuito di circa 4,5 km, che i partecipanti hanno dovuto percorrere facendo attenzione ad evitare le penalità e rispettando un preciso lasso di tempo. Alla fine la cerimonia di premazione, tra i non vedenti, primo posto per l'equipaggio amato Stimola, per gli ipovedenti, trionfo della coppia Cartier-Zarba, per i normodati, infine, vincitore risultato l'equipaggio alla perna Gianni, soddisfatti dall'Unione Italiana Ciechi per la riuscita della manifestazione, che ha reso possibile uno straordinario coinvolgimento di tutti gli associati. Grazie a tutti.